La Lazio ha battuto 1-0 la Roma nel derby della Capitale in Serie A, allungando a più 5 sui giallorossi nella corsa a un piazzamento nella prossima Champions League. In un clima da battaglia sportiva all'Olimpico, la prima svolta del match è arrivata al 32esimo con l'espulsione di Ibanez per somma di munizioni. In superiorità numerica la Lazio di Sarri ha accentuato il predominio del possesso palla, provando con pazienza a bucare il muro giallorosso. La giocata vincente è arrivata al 65esimo con l'imbucata di Luis Alberto toccata da Felipe Anderson per Zaccagni, glaciale a battere Rui Patrizio sul secondo palo. Grazie per la visione!